Io sto parlando con la registrazione. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. La sostenibilità è un concetto che può avere un'accezione più ampia, non è semplicemente usare una bicicletta invece di un'auto, ma riguarda per esempio avere una certa prospettiva nel cervello per capire che siamo tutti nella stessa barca, anche se non è una battuta che ho cognato io. Perché tutti dobbiamo fare qualche cosa. Quindi la sostenibilità, non usare troppa plastica, questo, quest'altro, risparmiare, riciclare, ma anche essere rispettosi nei confronti della gente. Quindi sono davvero felice di aver potuto invitare Dan Rosengarden, che è un designer, che è un artista, non so mai come presentarti, insomma. Dan Rosengarden, diciamo così. Ecco, lui è un maestro che riesce a tradurre la tecnologia in poesia e poi soprattutto con una preoccupazione per il nostro pianeta. Vittoria Seedle, che ha appena fondato la GCC, la Global Gallery Climate Coalition, che è un'organizzazione che si preoccupa di collegare una rete di gallerie per naturalmente condividere i costi, per poter condividere costi fissi, costi di spedizione, di trasporto, per poter risparmiare e non spendere troppo in cose di cui abbiamo bisogno per i nostri eventi e che non possiamo evitare di avere naturalmente, ma che potrebbero essere naturalmente condivisi da più attori. E poi Eva Feldkamp. Sono felicissima di avere Eva perché, come dicevo prima, la sostenibilità vuol dire anche rispettare tutti gli altri, cercare di aiutarli e quindi è davvero ciò che lei fa. Nel senso che collega una rete di professionisti di prima grandezza con le organizzazioni in uno scopo di lucro, di beneficenza, eccetera. Tre tipologie di approccio diverso a questo nostro argomento e quindi do la parola immediatamente a Dan che inizia con il parlarci del suo lavoro. Grazie, grazie davvero. Volete magari sedervi da un'altra parte in modo da vedere lo schermo? No. Bene, allora grazie per la presentazione. E se non riusciamo ad immaginare un futuro meraviglioso, non riusciamo neanche a crearlo, quindi dobbiamo sognare, solo lì possiamo riuscire a ingegnerizzare, fare in modo che i nostri sogni diventino realtà. Ecco quello che noi facciamo. La maggior parte del mio paese sta al di sotto del livello del mare. Senza la tecnologia, senza il design, annegheremo letteralmente. Ma grazie a questa meravigliosa diga di 32 chilometri che è bellissima, riusciamo a sopravvivere. Quindi usiamo il design e la tecnologia per creare la nostra casa, la nostra abitazione. Ma di solito anche agli olandesi capita di dimenticarsi queste cose. Abbiamo proprio creato questo progetto a nome del governo, una combinazione che ci permette di far vedere quanto sarebbe alta la marea se noi non investissimo in nuove idee, se ci fermassimo qui, se prendessimo la vita per scontata. Vedete che c'è un aumento del livello del mare di 2.5 metri e abbiamo cercato di trasformare questa cosa in un'esperienza. E ho un video di breve durata a questo proposito sul progetto Waterlicht. Camminando intorno qui è una cosa surreale, è proprio come essere sott'acqua e invece non lo sei. Avevo problemi di respirazione, è una cosa assolutamente da pazzi stare qua dentro. Sembra di annegare però piacevolmente. Da un certo punto di vista ero un po' spaventata, però d'altro canto è come essere parte di una situazione di illusione, è come se fosse quello che noi chiamiamo la fatta morgana, un miraggio, cioè è come una mistione di possibilità e di altre opportunità allo stesso tempo. Mi informa sul cambiamento climatico, quello che stiamo facendo insieme alla Terra, dovremmo essere tutti molto cauti. Se si vede una cosa come questa, si vuole cambiare e quindi non è che mi fa paura guardare questa cosa, anzi mi dà più speranza. Ecco, in un modo o nell'altro la gente non cambia a causa dei numeri. È abbastanza strano, no? Se parliamo del futuro, i numeri, le cifre non ci aiutano se non per creare il cambiamento. Però nel momento in cui uno introduce la bellezza o introduce il design e lo si trasforma in un'esperienza, ci si apre. Questo è un castello di 700 anni fa, a rischio di essere appunto inondato, fa parte del patrimonio dell'UNESCO. E in effetti abbiamo creato appunto questa, proprio lì, questa immagine di inondazione. Non si paga nulla, è tutto gratuito, alcuni si spaventano a pensare che questo è il nostro mondo futuro, altri sono assolutamente sorpresissimi. Guardate, guardano tutti e pensano, ma è una cosa da pazzi. Usiamo la bellezza come strategia per far sì che la gente accetti il cambiamento. Parliamo di soldi, di tecnologia, di politica, però non usiamo mai la bellezza come strategia per accettare il cambiamento. Ecco, la forza di questa installazione è proprio questa. La gente si apre, sta insieme e è curiosa, è curiosa del futuro e non si spaventa. Ecco il nostro team che si è dedicato, il project manager, i designer, i tecnici e poi alcuni portoghesi che si sono infiltrati e hanno voluto fare anche loro la fotografia. Ecco, questa è una cosa che mi piace tantissimo, questa immagine. Io credo che sia bellissimo cercare di creare questa esperienza collettiva dove le persone possono tutti, come dire, condividerla. 25.000 metri quadri di cultura, la Rabobank, una delle più importanti, mi ha chiesto di pensare al futuro, all'agricoltura del futuro. Abbiamo trovato questo meraviglioso campo e abbiamo iniziato a pensare con i contadini, con gli esperti della luce, eccetera, per trovare una ricetta che illuminasse, che facesse da attivatore. Guardate, le luci rosse e blu aiutano alla crescita dei prodotti dopo il tramonto in modo particolare, ma i raggi UVA attivano il sistema difensivo immunitario appunto dei vegetali e quindi possiamo ridurre la quantità dei pesticidi. Io vengo dalla città e quindi non so la differenza fra un campo di carote e un campo di patate, adesso lo so ovviamente, ma insomma sono abbastanza ignorante, nel senso che noi non vediamo mai i luoghi che ci nutrono, non capiamo. E questo è di fatto il problema quando si parla di innovazione, quindi questo è un omaggio ai luoghi che ci nutrono e anche un omaggio all'esperienza e anche una piattaforma scientifica. C'è un altro video a questo proposito. Era freddo, era mattina presto, molto freddo. Ecco, un luogo deserto, crescita. Ecco il contadino, Dennis si chiama. Spesso sogniamo di creare un futuro migliore. E tuttavia non notiamo mai che ci sono i campi che ci nutrono. Allora, come possiamo far vedere la bellezza nell'agricoltura? Come facciamo diventare il nostro contadino un eroe? E come può la luce riuscire a far crescere le piante in modo più sostenibile? GROW è un progetto ispirato dalla ricerca scientifica e di fatto ci sono delle ricette specifiche basate sulla luce che aumentano la possibilità di crescita e ridurre fino al 50% l'uso dei pesticidi. Quindi, quando c'è il tramonto, allora continua la luce del progetto GROW, cresci. Grazie. 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 Facciamo sì che la luce organica raggiunga la città. Grazie. 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 qui dentro, poi ovviamente tutto si riflette sull'acqua e vorremmo mettere dei semi dentro le bolle in modo che tre mesi dopo si possano avere i fiori, non ce l'abbiamo ancora fatta ma ci stiamo lavorando, i riflessi festeggiano come se fosse un'unica unità e quindi, vedete, prego, mi può ripetere la domanda? ah, che cosa succede agli uccelli? ah no, è una nuvola di 40 metri per 50, quindi non è pericolosa per i volatili ah, magari pensano di mangiarla, ecco perché non abbiamo messo il seme dentro, perché altrimenti se li sarebbero mangiate grazie, c'è un'altra domanda qui, ecco diamo il microfono al signore in modo tale, su, coraggio, buon pomeriggio buon pomeriggio a lei, ero curiosa del materiale che avete usato per fare bolle, è una bolla biodegradabile e la luce viene riflessa e assorbita in un modo abbastanza furbo, nel senso che non c'è nulla di fisico non c'è un liquido dentro, sono praticamente 40 volte più sottili di un cappello, ecco perché a volte si muove così, così e così quindi ha il suo beat e a volte noi le guardiamo queste bolle e diciamo ma perché mai si muovono così di solito noi vogliamo sempre controllare le cose, però a volte è anche bello, come dire, lasciare che sia la natura decidere a controllare, non sempre noi, molto bello, era una notte che abbiamo deciso di provarla questo tipo di esperienza, non sapevamo se sarebbe piaciuto alla gente o no e invece tutti sono rimasti lì per più di un'ora a vedere questi fuochi artificiali biologici, quindi la tradizione dei festeggiamenti può essere modernizzata anche con queste alternative che possono essere reali e buone e belle e anche divertenti e per concludere i miei studenti dicono il nostro futuro è congelato quando si parla del mondo sostenibile quindi non possiamo più acquistare delle cose, altre eccetera, insomma è un po' questo futuro che non è divertente invece noi abbiamo creato uno divertente, due anni fa quando i miei studenti hanno detto una cosa di questo genere mi sono detto hanno ragione, la prossima generazione eredita solo le prove da superare non diamo a loro strumenti per risolvere i problemi, stiamo semplicemente vietando tutto questo probabilmente è quello che ci ha spinti a fare questo tipo di progetto riportare la natura e riportare la nozione del divertimento e dell'esperienza e l'ultima immagine che ho da dirvi, l'ultimo commento da fare è che qualche centinaio di anni fa noi esseri umani eravamo il centro dell'universo e qualsiasi altra cosa era intorno a noi il sole, i pianeti eccetera, sembrava che tutto girasse intorno a noi e poi Galileo, Copernico e Keplero tra i disgraziati hanno detto no 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 siamo noi che giriamo intorno al sole che è chilometri chilometri di distanza da noi e non è piaciuta a nessuno questa cosa adesso noi sappiamo che è vero però abbiamo ancora comunque l'alba e il tramonto non abbiamo ancora cambiato la nostra percezione forse dobbiamo ricambiare un'altra volta la nostra percezione nel senso che non possiamo controllare la natura il covid, il cambiamento climatico, i virus, l'inquinamento dell'aria e quindi dobbiamo riportare il nostro equilibrio da un'altra parte con le nostre prospettive e questi progetti aiutano proprio a cambiare questo punto di vista e questa prospettiva ultimo commento, il design significa aggiungere a volte se aggiungi non va bene perché c'è energia ci sono materiali quindi abbiamo già questo tipo di spettacolo nel nostro cielo sono le stelle però non lo vediamo questo spettacolo perché? perché c'è un inquinamento dell'aria allora se per una notte noi potessimo spegnere tutte le luci, tutte le luci della città e questo è il progetto che si chiama Guarda le stelle questa è la luce normale e questa è una foto reale dove noi abbiamo convinto sindaco, cittadini, imprenditori a spegnere tutto per far vedere semplicemente le luci delle stelle e riportare la natura in città, la città di Leider il 25 di settembre ci sarà questo altro esperimento come parte di un esperimento europeo cioè noi adattiamo il nostro modo di vivere spegniamo le luci, chiudiamo le tendine per cercare di appunto far vedere le luci delle stelle che sono lontane, milioni di anni luce e qui io rimuovo e rivelo e forse questo tipo di pensiero può essere un buon modo per continuare nel nostro futuro grazie, grazie Dan, grazie davvero amo particolarmente quando hai detto che non usi la luce come decorazione ma quando usi la luce proprio perché ci sono scopi diversi e usi diversi quindi Victoria Seidel Gallery Climate Coalition GCC ci puoi dire qual è la tua attività e perché ti sei decisa a lanciare questo progetto buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Maria Cristina per avermi invitata a parlare mi chiamo Vittoria Seidel, sono cofondatrice e membro del consiglio direttivo di Gallery Climate Coalition cofondatore trustee di Gallery Climate Coalition sono anche appunto come dicevo prima un cofondatrice e un trustee di questa organizzazione di beneficenza internazionale che dà linee guida e obiettivi di sostenibilità ambientale nel settore dell'arte lanciata da poco parlerò di tre settori in modo particolare il primo è la forza dell'arte, delle idee per mettere a punto il cambiamento cosa che Dan ha già citato poi la realtà pratica di che cosa significa appunto diminuire la footprint di carbonio soprattutto nelle industrie e la Gallery Climate Coalition si occupa proprio di questo e poi volevo anche brevemente citare che cosa possiamo fare per sostenere le varie aziende al di là del mondo del design dell'arte che stanno cercando di fare del loro meglio per salvare il planeta e che hanno l'effetto più efficace attualmente bene per prima cosa gli artisti svolgono un ruolo davvero vitale nell'ambito dell'effetto che c'è nel guardare il nostro mondo possono ispirarci possono attuare il cambiamento l'abbiamo visto negli anni 80 a New York quando c'era l'AIDS gli artisti sono stati davvero necessarissimi nel cambiare le percezioni di quello che stava accadendo e hanno provocato anche cambiamenti politici l'abbiamo visto anche più recentemente gli artisti si sono dati da fare soprattutto per quanto riguarda le problematiche ambientali c'è un esempio qui sullo schermo questo è un progetto di Eliafor Eliasson che ha messo una serie di iceberg come li ha intitolati nelle città più grandi e a Londra fuori la Ted Moden qui a Parigi e poi naturalmente piano piano questi iceberg si sono sciolti e poi un altro artista ha portato un grosso granito fuori dal ministero dell'interno insieme a Greenpeace per protestare contro la non protezione della terra e poi abbiamo fatto una conferenza della Gallery Climber Coalition a Londra il novembre scorso e il poeta Ben Okri britannico nigeriano ha detto vi considerate una piccola parte di un grosso problema ma siete davvero una parte molto importante di questo problema perché dovete gestire la visione come le persone vedono e come possono avere una visione più chiara della percezione del mondo gli artisti sono estremamente forti nel guidare le persone in questo settore allora secondo che cosa possiamo fare come può un settore industriale una collettività diventare più sostenibile dal punto di vista ambientale ho bisogno appunto di un giro a diapositive quello verde bene grazie questa è stata una domanda che è stata posta a un gruppo di persone all'inizio del 2020 proprietari di gallerie scrittori io ci siamo tutti messi insieme abbiamo iniziato a parlare del fatto che noi e chiunque altro conoscessimo fossero davvero interessati a questa problematica e volevano cambiare però eravamo solo un gruppo di singole persone e piccole attività difficile fare tutto ciò isolati abbiamo dovuto creare una coalizione per darci più forza organizzativa e anche di influenza politica ed ecco abbiamo formato GCC proprio così ovviamente la pandemia è stata terribile in molti modi eccezione fatta che ci ha dato la possibilità di dedicare tempo e forza nella formazione di questa nuova organizzazione senza scopo di lucro e per il primo anno ci siamo trovati settimanalmente in tutto il 2020 nell'ottobre abbiamo annunciato la nascita di GCC è un'organizzazione che permette libero accesso a tutti e dà risorse liberamente alle gallerie d'arte gli obiettivi sono semplici ce ne sono due il primo è una riduzione del 50% di emissioni CO2 entro il 2030 in linea con il Paris Agreement non è una cosa che abbiamo creato noi volevamo essere in linea con gli obiettivi globali e il secondo obiettivo è zero rifiuti ogni volta che si organizza una mostra c'è un sacco di rifiuti e è una cosa che dobbiamo cercare di risolvere attraverso la ricerca ecco la suddivisione dei nostri membri ho detto che abbiamo fatto l'annuncio in ottobre del 2020 18 mesi fa e abbiamo 800 membri in tutto il mondo che hanno sottoscritto questi obiettivi quindi come coalizione potenzialmente possiamo attuare un grande cambiamento nel nostro settore abbiamo più di 300 gallerie commerciali la GCC è stata fondata per le gallerie commerciali ma poi è stata adottata dall'intero settore abbiamo più di 120 istituzioni e membri non profita abbiamo più di 130 artisti singoli attività singoli personaggi il concetto è che dobbiamo far sì che tutti siano coinvolti a operare questi cambiamenti poi è anche una cosa che è andata bene al di là di Londra dove c'è stata appunto la prima riunione nostra e dove abbiamo fondato la nostra associazione siamo andati a Berlino a Los Angeles e poi molto molto felici di annunciare la costituzione del gruppo italiano che associa gallerie istituzioni artisti di Milano Napoli e Roma e poi vedete stiamo lavorando per San Paolo per Giappone per Bruxelles per Barcelona New York Mexico City stiamo cercando di andare appunto in tutto il mondo la cosa essenziale che abbiamo riscontrato è che possiamo parlare quanto vogliamo di tutto questo però se non diamo delle risorse se non diamo degli strumenti pratici delle risorse per questi cambiamenti naturalmente non c'è modo che questi cambiamenti intervengano quindi abbiamo dato risorse che sono state create da team di volontari insieme a esperti in settori come per esempio assicurazione trasporti stampa e pubblicazione conservazione viaggi circolarità riciclo confezionamento eccetera comunque la cosa più importante e ce ne siamo riaccorti dall'inizio che dovevamo produrre e condividere era un calcolatore che potesse essere usato da tutti sulle emissioni di CO2 ebbene l'abbiamo costruita questa app e l'abbiamo lanciata con il nostro sito nell'ottobre del 2020 e abbiamo chiesto alle gallerie agli studi di artisti alle istituzioni di usare questo calcolatore è gratis è molto semplice calcolare appunto il consumo di emissioni di CO2 è anche divertente perché potete intanto vedere che tipo di emissioni se avete un andato e ritorno in aereo tra Londra e Los Angeles oppure che cosa succede se prendete il treno o l'aereo eccetera quindi provateci è anche divertente calcolare le emissioni e da quel momento in poi abbiamo fatto una serie di certificazioni da parte di gallerie e di istituzioni e i dati sono molto interessanti perché davvero apporta l'attenzione proprio su questi problemi vedete i dati di una galleria di arte contemporanea che si chiama Modern Art a Londra e vedete la suddivisione di 50% di emissioni per viaggi poi trasporti e spedizioni vicino al 50% poi energia meno del 10% e poi altre cose e quindi qui potete potete vedere che una galleria d'arte commerciale il viaggio e le spedizioni sono le due aree principali se vogliamo cambiare dobbiamo lavorare lì aiuta perché se non capisci da dove vengono le emissioni se non puoi misurare non puoi ridurre ebbene ecco questa a Houser & Wurth una galleria internazionale di grandi dimensioni a sedia New York Los Angeles Londra Zurigo Hong Kong stanno aprendo gallerie dappertutto però interessante comunque vedere che la suddivisione è analoga a quella che abbiamo visto prima più di 50% per spedizione viaggi poi ancora energie e altre piccole cose quindi questo è stato un metodo assolutamente utilissimo per noi dai GCC perché sapevamo che la nostra attenzione doveva andare sulla spedizione abbiamo appena lanciato una campagna per la spedizione sospenibile se siete interessati potete andare su un altro sito per cercare di sostenere questo settore anche qui abbiamo anche delle istituzioni non profili che usano questa applicazione è interessante vedere che differenza fa per esempio per i musei questo è Nottingham Contemporary che è un museo di arte contemporanea di medie dimensioni nel Regno Unito d'Inghilterra bene hanno usato appunto il calcolatore di GCC per fare questa certificazione e vedete che il 90% delle emissioni vengono dall'energia dell'edificio situazione totalmente diversa rispetto alle gallerie commerciali e quindi lezione interessante per noi a GCC e l'approccio che abbiamo per le gallerie musei studi di artisti in vari modi e diamo tutta una serie di scopi e di risorse a questo proposito il terzo punto che ho citato di cui avrei parlato è che cosa altro abbiamo bisogno questa è l'altra domanda che ci siamo fatti il mondo dell'arte che cosa può fare in più per sostenere questo tipo di sforzo e fare davvero la differenza per quanto riguarda l'ambiente e la sostenibilità ecco siamo arrivati a Client Earth che è uno studio legale e il cliente di questo studio legale è la terra citano i governi in tribunale per esempio li forzano a chiudere centrali di produzione di energia fatica con il carbone e cercano di registrare i luoghi dove vengono le emissioni di CO2 noi abbiamo detto come possiamo aiutarli tutto va bene finché si tratta di avere abbastanza risorse finanziarie e fare qualche cosa e questi sono due obiettivi interessanti siamo andati da alcuni degli artisti più importanti del mondo questo è un lavoro di Cecily Brown che ha donato quest'opera per trovare il denaro abbiamo iniziato quest'asta in ottobre l'anno scorso l'abbiamo venduta 2 milioni di sterline tutto è andato a Client Earth e poi a Rashi Johnson che è stato venduto a New York Zin & Zin a Hong Kong stiamo cercando di vendere le opere nei paesi d'origine in modo tale da non doverli spedire in tutto il mondo per la Asta Anthony Gornic ha dato una scultura in marzo in Londra e poi altre in giugno insomma fino a questo momento siamo arrivati a 6 milioni di dollari che abbiamo dato a Client Earth e anche soprattutto siamo riusciti a fare una campagna per la sensibilizzazione e abbiamo presentato delle organizzazioni come questa come alternativa per la nozione tradizionale di offsetting dove per esempio vengono dati da un'area delle organizzazioni che fanno davvero una grande differenza un esempio di quello che loro hanno fatto alla Client Earth è stato per esempio obbligato il governo polacco a chiudere tutta una serie di centrali per la produzione di energia a carbone e le emissioni annuali erano quattro volte superiori alla più grossa linea era europea quindi ci sono dei grandi cambiamenti che diciamo sono veramente importanti che non si sono mai verificati prima nel nostro settore bene infine questo è un codice QR se non avete ancora trovato il nostro sito potete trovarlo qui ho partecipato proprio a una discussione fra esperti proprio su questo argomento e poi qualcuno mi ha fatto una domanda e ci ha detto avete speranza e tutti quelli che erano lì e beh era anche la mia domanda bene ecco vedi è una domanda importantissima e Dan in uno dei video o proprio uno dei partecipanti ha proprio detto che quello che vedeva la spaventava ma le dava anche speranza e quindi la speranza è una parte molto importante di questa conversazione siamo tutti qui stiamo parlando di questo se non avessimo speranza non saremmo qui non troveremo i soldi non faremo le cose un'altra cosa che vi devo dire che mi ha dato speranza è che per quanto riguarda questo problema tutti ne stanno parlando stanno cadendo cose insomma ogni riunione ha una sessione sulla sostenibilità c'è l'impegno degli artisti dei giovani quindi c'è davvero da fare dei passi avanti da questo punto di vista e il mondo sarà migliore in futuro se continuiamo a lavorare quindi grazie ancora di essere qui per avermi ascoltata grazie Vittoria grazie molte Eva a te Eva Felcam All in O Buongiorno a tutti mi fa molto piacere essere qui e davvero mi ispira molto a sentire quello che i progetti creativi possono fare per ispirare tutti noi e quello che noi possiamo fare come industria per assumerci la responsabilità per un clima migliore oggi sono qui per parlarvi di che cosa dovete fare per aiutare la gente e il pianeta mi chiamo Eva Felcam sono fondatrice e direttrice di All in O sono una designer una stratega e All in O lavora con i creativi per e anche con le associazioni senza scopo di lucro per lanciare una serie di progetti ad hoc nel corso degli ultimi 15 anni mi sono dedicata appunto a camminare in lungo e largo nel salone per capire quali fossero i nuovi materiali sono stata ispirata ma mi sono anche molto stancata e a volte non sapevo davvero da che parte girare la testa allora ho continuato a chiedermi ci sono una serie di menti creative nel nostro settore industriale però è come trovarsi in un labirinto come questo allora domanda come possiamo usare le nostre abilità per davvero fare la differenza al mondo allora ho cominciato a chiedermi a richiedermi questa cosa e non ho mai trovato una risposta allora vi faccio vedere cosa ho fatto io sono un'esperta di product interior design ho lavorato con Philippe Binwes a Crawford e poi sono andata a lavorare con il team di Tom Dixon e quando io lavoravo in tutti questi studi incredibili su progetti mondiali dicevo ma sono troppo ristretta nel mio lavoro allora per equilibrare ho cominciato a fare la volontaria quando non lavoravo per esempio mi incontravo con giovani una volta alla settimana per cercare di sviluppare le loro abilità oppure con le persone di età e da 5 anni a questa parte appunto ho un bellissimo rapporto con questa persona e poi anche ho fatto la volontaria alla World Bank insomma c'erano due mondi nella mia vita il mio mondo professionale in tutti questi studi così incredibili e il mio tempo privato nel settore del non profit e mi sono resa conto che un settore poteva beneficiare dell'altro la Food Bank per esempio se avessero un label migliore migliori mobili migliori cose tutto potrebbe essere più efficiente e quindi potrebbe di fatto essere più interessante anche per tutti gli utenti della Food Bank potrebbe diventare un sistema che fa funzionare le cose molto meglio questo non sta succedendo perché tutte queste organizzazioni lavorano da sole in isolamento senza collaborare quindi io credo che il design possa aiutare tutte queste organizzazioni ed è davvero forte perché le cose non solo diventano più belle ma anche più funzionali e quindi è una situazione positiva in entrambi i casi non è solamente che i designer aiutino le organizzazioni non profit ma le non profit danno più scopo più obiettivi ai designer e quindi ci possono essere possibilità di trovare nuovi mercati e quindi possono di fatto trovare dei prodotti che operano e funzionano meglio una volta che mi sono resa conto di quanto questi due mondi potessero collaborare bene ho lasciato Tom Dixon e ho cominciato a pensare di come trasformare tutto in una cosa più funzionale ho parlato con tutta una serie di istituzioni del settore pubblico del terzo settore non profit eccetera per cercare di sapere di più su come funzionassero c'era bisogno di un elemento di collegamento e di comunicazione qualcuno di cui potessero avere davvero fiducia che li potesse mettere in contatto con le persone giuste ho lanciato allora All in over il nostro obiettivo è quello di collegare efficientemente ed efficacemente queste organizzazioni senza scopo di lucro con i creativi recentemente ho avuto il privilegio di partecipare al programma design emergency di Paolo Antonelli e di Alice Hawthorne e questo è un modo estremamente interessante di vedere quello che può fare il design abbiamo lavorato con le charities il settore non profit da organizzazioni piccolissime a ONG grandi la maggior parte di loro non aveva idea di che cosa potesse fare il design perché lo consideravano solo mobili e lusso e quindi si sono un po' persi all'inizio delle nostre conversazioni noi sappiamo tutti che il design è ben di più che semplicemente mobili e quindi ci siamo prodigati perché loro capissero anche questo un esempio interessante sono le cannucce di plastica noi sappiamo che sono state eliminate velocemente dal mercato grazie a una campagna di immagini incredibile tutta una serie di tagline interessante perché le cannucce di plastica non sono un fattore essenziale per risolvere il problema del cambiamento climatico però quando ci si deve fare il cambiamento avviene se troviamo le motivazioni e gli obiettivi giusti possiamo trasformare una situazione negativa in positiva quindi come lavoriamo lavoriamo con tre gruppi chiavi di persone con i creativi per cercare di capire che cosa davvero sanno fare quello che possono dare noi lavoriamo con associazioni senza scopo di lucro e di beneficenza per capire veramente ciò di cui abbiamo bisogno e poi abbiamo un collegamento con anche coloro che possono avere le risorse finanziarie per poter sostenere questi progetti e di fatto noi siamo come un asse nel senso che comunichiamo attraverso tutti i vari elementi e facciamo in modo di far comunicare tutti come si deve e no certo non salviamo il modo però noi crediamo che stiamo comunque facendo la nostra parte stiamo facendo ciò che possiamo e ciò che abbiamo imparato che possiamo fare per aiutare il mondo e noi come industria ovviamente non possiamo esimerci da tenere presente i problemi ambientali è un esempio semplice che quando io parlo con le associazioni senza scopo di lucro cominciamo a parlare a dire loro chi siamo cosa facciamo ma poi dopo noi dobbiamo anche affrontare ciò di cui abbiamo bisogno quindi la seconda domanda è come posso aiutarti che cosa posso fare per te e la terza domanda è ecco ti metto in contatto con queste persone in modo tale che ciò di cui hai bisogno possa di fatto divenire una realtà è questo che facciamo quando implementiamo il nostro progetto ecco Olino è una rete di 60 creativi a livello mondiale graphic designer fotografi strategie eccetera lavoriamo con architetti designer di interni su progetti speciali e come ha detto Maria Cristina tutti sono di primo di alto profilo e di in primo piano e a loro interessa davvero di risolvere il problema del nostro pianeta e sono due requisiti essenziali per diventare i nostri collaboratori e quando loro entrano a far parte della nostra situazione possono preteccare sconti o fare progetti volontari però di fatto è incredibile se tu conosci le persone giuste quanti fondi si possono trovare e se si trovano le applicazioni lavoriamo con studi di tutte le dimensioni a volte con individui con freelance ma anche con grandi studi ma anche con aziende che vogliono per esempio restituire o che devono restituire non sanno come fare per restituire ciò che hanno avuto insomma noi cerchiamo di lavorare tutti sullo stesso tipologia di progetti con lo stesso tipo di obiettivi abbiamo quindi un codice etico abbiamo una serie di valori che tutti accettiamo e abbiamo completato fino a questo momento 10 progetti ne abbiamo 25 che non sono ancora completati dai siti fino a spazi ufficio a progetti di collettività poster workshop mostre eccetera un esempio di progetto è la Future Library Initiative che è un progetto a Peterborough c'è un'impresa sociale che si chiama Civic e hanno deciso di fare uno studio pilota per rivoluzionare il sistema artigianale ci sono sette progetti a livello di Regno Unito d'Inghilterra e anche a livello internazionale per fare in modo di avere più accesso alle biblioteche quindi abbiamo fatto appunto una visva a Peterborough e il brief che ci hanno dato è in tre settimane questo spazio doveva diventare più invitante più bello in modo tale che potesse accettare anche i poveri o le persone meno abbienti c'erano pochi soldi quindi abbiamo messo insieme un team di collaboratori diversi architetti interior designer product designer grafici eccetera e poi alla fine abbiamo avuto una sponsorizzazione per moquette per tende eccetera in tre settimane ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto questo community hub e i visitatori sono aumentati quindi la cosa ha funzionato ecco è stato un bel progetto proprio perché abbiamo messo insieme le persone giuste un progetto davvero molto diverso invece è stato una campagna di poster che abbiamo fatto per una cooperativa locale di East London di fatto di fronte a un edificio avevano uno spazio e non avevano idea di questo manifesto quanto potesse essere grande il tipo di testo e noi abbiamo stato un pdf e da quel pdf sono riusciti a capire che cosa mettere su questo manifesto ebbene una cosa un progetto per noi molto facile però invece per loro è stato un grandissimo progetto molto importante questo è un esempio di un progetto volontaristico e per settimane e settimane ci hanno ringraziato e ha davvero cambiato completamente l'atteggiamento che la collettività aveva nei confronti di questa piccola associazione senza scopo di lucro abbiamo collaborato abbastanza interessante con una serie di associazioni senza scopo di lucro dove non c'erano sufficienti spazi di lavoro e che adesso avevano bisogno di più spazio dovevano operare decisamente in modo diverso rispetto a quanto si faceva prima della pandemia quindi più di utilità più collaborazione ed è interessante questa cosa perché noi adesso stiamo lavorando con questa associazione per capire come cambiare per esempio l'assetto l'atteggiamento il business model però mantenere come dire lo stesso tipo di adattabilità dal punto di vista del design quindi questo è quello che abbiamo fatto all'inizio a Olino abbiamo iniziato un anno e mezzo fa e siamo cresciuti cresciuti davvero siamo una collettività molto molto attiva e ci siamo resi conto che ci sono enormi possibilità e quindi c'è molto appetito da parte dei creativi perché vogliono tutti lavorare su questi progetti e molte associazioni senza scopo di lucro hanno bisogno di aiuto e quando noi parliamo loro capiscono davvero che cosa significa essere ispirati avere impegno e c'è anche come vi dicevo accesso a fondi quindi diciamo è un altro settore nel quale noi operiamo quindi sì noi lavoriamo anche per progetti mondiali già da ora anche se siamo giovani ma quello che vogliamo costituire è un sistema attraverso il quale sia possibile collegare meglio e più velocemente le persone e quindi grazie alla tecnologia che sappiamo tutti quanto sia importante dalla pandemia il video ci ha reso la vita più semplice perché adesso tutti naturalmente pensano che sia normale lavorare e collaborare da un paese all'altro anche via video eccetera ma anche i clienti sono più aperti a questo tipo di collaborazione per esempio possiamo avere team in remoto e quindi stiamo mettendo appunto un sistema che ci possa collegare per far sì che i progetti diventino ancora più autonomi allora come potete aiutarci voi tutti è davvero fate il passaparola perché vogliamo davvero far aumentare questa rete vogliamo che ci siano più creativi vogliamo anche che tutti vengano a all in over e che ci parlino appunto di quello che vogliono progetti piccoli grandi abbiamo bisogno di sostegni in qualsiasi forma sotto forma di aiuto economico di consulenza eccetera e se voi volete condividere con noi quello che sapete noi siamo pronti a condividere con voi ciò che sappiamo trasparenza e apertura sono due cose chiavi per fare una differenza con questo tipo di progetti quindi vi do il mio numero di telefono cerchiamo di contattarci grazie grazie Eva grazie quindi come avete visto ci sono tre profili diversi tre esperienze diverse però l'obiettivo è sempre quello cioè occuparci di noi stessi assisterci vicinevolmente tecnologia creatività bellezza tutto è messo in comune per migliorare il nostro futuro condivisione condivisione importantissima stare insieme e naturalmente cercare quelli che sono intorno a noi e cercare il loro aiuto un altro modo per essere responsabili proprio come è responsabile cercare di riciclare la plastica avete domande per i nostri oratori e le nostre oratrici ciao ho molte domande la prima come dicevo prima ho molte domande la prima è per lei Dan le dimensioni della sua equip quanti sono coloro che lavorano per lei e come pianificate i vostri progetti quanto tempo ci vuole prima di mettere a punto in modo finale un progetto domanda pratica le rispondo subito c'è diciamo un team di 10 12 20 designer tecnici project manager però per ciascun progetto ci vuole un esperto che ne so gli esperti in pochi artificiali contadini astronomi dipende il tipo di progetto che noi lanciamo l'80 70% sono progetti commissionati da un sindaco da un museo da un curatore che ci chiede di fare qualcosa però dal 20 al 40% dei progetti li facciamo noi quindi se c'è un'idea da matti io chiamo per esempio il responsabile della proloco di una città e dico voglio che il sindaco spenga tutte le luci gli chiamo e dico ho un'idea e loro mi dicono oddio che cosa vuole fare e io dico no il sindaco mi ha detto che bisogna spegnere tutte le luci c'è silenzio di tomba e allora uno mi dice ma perché per vedere le stelle gli rispondo io e il tipo mi dice ti richiamo domani quindi abbiamo creato questa rete fra sindaco responsabile delle attività turistiche eccetera cioè basta che uno dice ho un'idea l'idea non è tua non sei tu il proprietario tu ti arrendi a un'idea e quindi trovi il tempo trovi l'energia devi essere circondato da gente diciamo più brava di te in modo tale che questo progetto cresce io lo inizio lo termino come curatore però fra l'inizio e la fine del progetto stiamo facendo un ping pong ci sono molte interazioni con altri esperti e questo lo si fa per 10-12 progetti allo stesso tempo quindi c'è un autonutrimento dell'uno rispetto all'altro abbiamo bisogno di capire per esempio l'intensità delle bolle e allora ci siamo avvalsi di dati di un altro progetto quindi è interessante la conoscenza e le scienze si autoalimentano quindi facciamo così però insomma ci vogliono persone intelligenti la pizza hotline che ti porta da mangiare li chiudi dentro e gli dici non uscite più perché non vogliamo un'opinione vogliamo una proposta concreta ecco funziona così non so se funziona nello stesso modo per te ma per me funziona una domanda per Dan una domanda per Dan appunto ecco quanto costa la sostenibilità per esempio parlo a nome di un paese in via di sviluppo ecco quanto ci si può permettere la sostenibilità beh questa è la famosa domanda da un milione di dollari perché sfortunatamente viviamo in un mondo dove chi inquina lo può far gratuitamente non è giusto uno chiede qual è il prezzo dell'aria pulita e diventa una cosa poetica ma non tangibile quindi siamo tutti d'accordo che la sostenibilità è aria pulita acqua pulita spazio pulito ma non sappiamo come dare un valore nell'ambito del sistema economico quindi quando io parlo delle ricette della luce non posso mai competere con il leader dei pesticidi perché naturalmente loro non hanno tutti quei fattori che abbiamo noi in 25 anni siamo in una economia inclusiva la maglietta che si compra la linea aerea eccetera è inclusa nel prodotto che si compra però fino a che questo non accade allora io uso la bellezza come strategia cioè cosa cerco di fare cerco di come dire fare in modo che una cosa magari non si capisca ma sia voluta che ci vola un investimento che questo progetto cresca e questo può diventare un progetto scalabile o realizzabile però ha ragione che se si va in un certo paese dove bisogna davvero parlare anche il singolo euro o centesimo di euro allora ci vuole leadership e visione a lungo termine perché le cose succedono proprio come nella moda c'è l'haut couture no ci sono abiti da 60.000 euro sulla passerella a Parigi però la conoscenza che si sviluppa riesce poi arrivare al pret-à-porter e alla maglietta però sono processi a lungo termine e lei ha ragione sono delle prove da superare quotidiane di fronte alle quali mi ritrovo anch'io spero di aver risposto alla sua domanda domanda per Victoria mi chiedevo se nell'ambito del tuo calcolatore per le emissioni di CO2 ecco mi chiedevo se per esempio tenete in considerazione le opere d'arte perché un paio di volte mi sono ritrovata di fronte a una scultura e mi sono detta mamma mia che spreco di materiale davvero mamma mia che brutti sentimenti beh potrebbe essere per esempio una scultura in legno coperta di resina non c'è modo di separare i materiali e questa è la mia prima reazione quello di spreco quindi tenete in considerazione l'opera o tenete in considerazione solo le spedizioni il viaggio eccetera bella domanda il nostro calcolatore è parte delle cose che fa la GCC proprio per calcolare specificatamente le emissioni di CO2 quando invece parliamo della fabbricazione di una scultura lei parla appunto dei rifiuti ecco sì c'è questo problema e la difficoltà di calcolare le emissioni di CO2 dipende dal tipo di obiettivi per esempio se facciamo una cosiddetta carbon audit possiamo calcolare le cose solo sulla base del denaro speso se per esempio un artista sta producendo un'opera l'artista ha come primo obiettivo la resina il legno il metallo come te lo mandano mentre la galleria è già all'obiettivo numero due perché di fatto non c'entra nel prendere la decisione su come fare l'opera la fiera per esempio non può decidere il salone non fa non prende una decisione su come tutti noi viaggiamo qui e quindi non riescono neanche a calcolare le emissioni dei nostri viaggi perché non lo sanno non sono informazioni in loro possesso ecco perché arriviamo all'obiettivo numero tre che è complesso ma davvero molto importante cioè l'influenza che il salone ha per esempio nel senso che non può prendere una decisione su come si spediscono le cose qui su come lei è arrivata qui o questo grande schermo si è arrivato qui non lo puoi controllare ma puoi influenzare puoi stimolare le persone e la stessa cosa è quello che facciamo noi a GCC noi lavoriamo con gli artisti con le gallerie perché l'artista è quello che prende la decisione sul materiale da usare le fonti e che tipo di materiale e cosa accade al materiale prima durante e dopo e quindi le preoccupazioni degli artisti sono diverse rispetto a quelle di una galleria o di un collezionista o di un museo quindi che cosa stiamo cercando di fare mettere insieme tutto questo settore e riconoscere che tutti hanno necessità diverse ecco fa parte anche di quello che noi stiamo facendo ecco domanda da farti volete usare solo materiali sostenibili anche per le opere d'arte ma guarda le gallerie d'arte il nostro mondo esiste per sostenere gli artisti però noi siamo l'infrastruttura che sostiene gli artisti che permette loro di essere artisti di avere la loro visione di fare le opere incredibili che loro fanno quindi dover dire agli artisti quello che possono o non possono fare è una cosa un po' complicata però io credo che ci siano delle cose che si possano ottenere più facilmente prima di arrivare a quel punto per esempio paragonare le emissioni fra spedizioneri per esempio dire se spediamo via terra via aria eccetera c'è già una differenza e questo è più facile quindi cominciamo a occuparci di queste problematiche e poi dopo andremo nei dettagli più sottili se facciamo per esempio un salone per dieci anni tutti i materiali l'isolamento eccetera li mettiamo in un settore costruiamo una specie di zeppelin che possiamo tenere in cielo fino al prossimo salone e farlo atterrare per non sprecare materiale no ci vuole una visione a lungo termine per creare dei saloni sostenibili dobbiamo tenere in considerazione anche la mobilità però non ci siamo ancora arrivati ecco a questo proposito abbiamo fatto con Stefano Boeri i super saloni e tutto è stato riciclato riusato e questo è stato uno dei punti forti del super salone dell'anno scorso abbiamo tempo per una ulteriore domanda il microfono ce l'ha già bene per finire sulla sua domanda anche io sono un artista e ho dei dubbi bene in prima battuta posso scegliere un materiale più sostenibile come per esempio degli acquerelli organici però fino a questo momento nessuna delle marche di acquerelli mi danno informazioni sulla durata x anni per esempio oppure questo colore non prenderà funghi non si rovinerà insomma e quindi io a volte come dire sono un po' imbarazzata nel senso che tendo di scegliere una marca che sia più affidabile che possa permettermi di garantire una durata maggiore perché la cosa che mi spaventa è creare un'opera d'arte che poi non dura allora come possiamo come dire spingere un pochino di più i produttori per esempio di acquerelli per darci più informazioni sulla durata di questi colori o lei sa se c'è un sistema che noi possiamo usare come artisti per usare dei materiali di migliore qualità più sostenibili ecco esattamente il punto che stavo sollevando prima quando dobbiamo essere di più e perché GCC è stata fondata perché il mondo è stato creato da un gruppo di singoli individui il nostro settore e singolarmente non abbiamo potere di influenzare niente però se ci mettiamo insieme se facciamo una collezione di artisti o di persone che hanno lo stesso tipo di obiettivi possiamo avere il potere di influenzare non c'è una singola galleria un singolo artista un singolo collezionista che può cambiare per esempio quello che fanno gli spedizionieri in tutto il mondo perché hanno il loro modo di lavorare eccetera però noi abbiamo riscontrato come GCC che se rappresentassimo centinaia di queste organizzazioni andassimo dagli spedizionieri e dicessimo i vostri clienti vogliono questa cosa qua allora è più probabile che stiano a sentirci e quindi abbiamo dei risultati più produttivi una delle cose per le quali stiamo cercando di fare influenza è che ogni qualvolta uno spedizioniere fa un preventivo a un cliente anche se per esempio la richiesta è quella di fare una spedizione aerea facciano un preventivo anche per una spedizione via terra o via mare e anche il paragone delle emissioni di CO2 proprio come quando vai in un caffè e prendi una cosa e ti dice questo prodotto ha un ton numero di calorie eccetera magari la decisione rimane la stessa però insomma c'è un ulteriore grado di sensibilizzazione insomma da solo non ce la fai a cambiare le cose ci vuole troppo tempo e troppo sforzo però se c'è già un gruppo di persone c'è già una GCC Italia quindi questo gruppo si occupa esattamente di risolvere questi problemi bene vi ringraziamo siamo in ritardo già Eva Felkan grazie mille grazie Vittoria Sida grazie Dan Rosengarten di essere qui con noi sostenibilità tre episodi diversi grazie di essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti